per usare ciao amici io adoro i pancakes ma c'è un problema scusa quale problema perfino io pigrona come sono me li faccio il problema per me è che farli senza glutine non è semplice per chi mi segue da poco io non mangio glutine perché sono intollerante e mi fa male ho provato diverse ricette ma il risultato è sempre un po instabile diciamo che la percentuale di successo è 2 su 3 però ho trovato la soluzione e già che c'ero l'ho resa ancora più facile e veloce della ricetta tradizionale se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video per la ricetta di oggi usiamo l'avena istantanea della food spring ecco gli ingredienti dei miei pancake light e amici della massa magra una tazza di avena istantanea food spring una tazza di latte di riso o del latte vegetale che preferite un cucchiaino di sciroppo d'acero una banana bella matura un quarto di cucchiaino di sale se li volete un po più gonfi e cicciottelli potete mettere un cucchiaino di lievito io non l'ho messo perché comunque è opzionale come avete visto io ho preso una banana vera bella matura presa dal mio cesto della frutta e non una banana finta come fanno in tante ricette che poi non mangia nessuno potrebbe capitare che le quantità di avena e di latte vegetale vadano un po' aggiustate vedete di mantenere l'impasto cremoso ma non troppo denso ed ecco il mio trucco segreto io metto tutto nel frullatore piccolo e apposta così ci pensa lui a fare un bell'impasto liscio liscio senza grumi ma mentre simona si dà aria da gran cuoca cioè i miei pancakes sono molto meglio io vi ricordo iscrivetevi al canale per seguire nuovi video ogni giorno e ci sono anch'io cliccate sulla campanella così youtube vi avvisa guarda che ti ho sentito sai ora vado a cuocere i pancakes nel modo classico come ho spiegato in questo video oh non vedo l'ora di assaggiare i tuoi pancakes e dire che sono meglio i miei voi intanto amici usate il codice sconto vignali piccolo yt grande per risparmiare il 15 per cento sugli acquisti dal sito food spring ecco qua i miei pancakes più veloci del west e sono anche golosi parola mia ma è per me hai detto che i tuoi sono meglio questi ce li finiamo io e squaletto sono leggeri e in più l'avena è nutriente e mineralizzante l'avena è ricca di calorie è vero ma sono calorie buone perché saziano a lungo e le sue fibre sono amiche dell'intestino e regolano la glicemia questi pancakes nutrono la massa magra e non la massa grassa quindi sono adatti sia a chi vuole controllare il peso e fare brucia grassi sia a chi vuole aumentare la massa muscolare basta regolarsi con le quantità e con i contorni i ripieni i condimenti per esempio per una colazione uno spuntino sano si possono usare i frutti rossi che sono pieni di antiossidanti e magari un po' di formaggio cremoso anche vegano per avere la parte grassa beh se hanno tutti questi benefici vabbè scusami dai ma adesso mi dai pancakes sì ma fai in fretta perché li ho lasciati in custodia a squaletto non mi sembrava molto affidabile prima di salutarci amici ci tengo a dire che l'avena è un cibo eccezionale uno o due di questi pancakes con un contorno light possono essere una colazione molto bilanciata ottima per chi vuole stare in forma e regolare il grasso corporeo volete mettere su muscoli forti e sani abbinateli a uno shake proteico e spalmateli con le creme proteiche gusto cocco o cioccolato tutto by food spring bene amici adesso condividete questo video e condividete lo sconto perché come dico sempre anche risparmiare fa bene alla salute e noi ci vediamo al prossimo video nel frattempo ma sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao oh non vedo l'ora di assaggiare i tuoi pancakes ahaha